Siamo con Maria Chiara Norgini, il secondo libero di Banca Valsabina Millennium Brescia, questa sera ha approvato la carta nel secondo set Mr. Mazzola con la tua battuta. Un tuo commento sulla partita in generale e poi anche sulla prestazione della squadra, su cosa potevate fare di più? Penso che in generale abbiamo lavorato bene, siamo contro una squadra importante, quindi stiamo parlando di giocatori che giocano in un certo modo. Ovviamente noi abbiamo fatto quello che secondo me potevamo, forse un qualcosina in meno, quindi sicuramente c'è da lavorare su un po' di cose, però secondo me a mio modo di vedere possiamo uscire dalla partita abbastanza contente di quello che abbiamo fatto. Come ho chiesto prima al tuo capitano, ovviamente avendo raggiunto la salvezza matematica, grande risultato per quanto riguarda la vostra formazione, forse bisognava spingere su qualcosa in più, tipo forzare un po' la battuta, metterle un po' più in difficoltà in ricezione. Ma sì, allora loro hanno dei giocatori che comunque di ricezione sono forti, quindi tengono bene. Secondo me sì, forse l'unica cosa che potevamo un po', perché del resto appunto abbiamo provato comunque. La cosa che potevamo magari tirare un pelo di più, sì, può essere la battuta, perché comunque siamo in casa nostra, potevamo rischiare un pochettino di più. Però, ripeto, ci stava comunque, no? Abbiamo provato, potevamo fare un pelo di più, ma va bene così.